A casa, a casa, merda, tornate in serie B, tornate, tornate in serie B, scusate, c'avevo un capello in mezzo, tornate in serie B, tornate, veronesi del cazzo, tornate in serie B, dovete tornare in serie B, sfigati, un'ora, un'ora e passa a perdere tempo e poi ve la siete presa nel culo, cazzo, tornate in serie B, che siete completamente inutili al calcio, dai. Imparate cos'è il calcio e rispetto proprio a tutto, che hanno detto che pure avete dato gli insulti razzisti e gli insulti antisemiti, fascisti, bastardi, veronesi, e ve lo dico la Veneto, ve lo dico, veronesi tutti mati, come dice il famoso detto, e Mila vince 1-0 con i gol di crespionte che il pistolero, che torna a segnare sul calcio di rigore netto, senza se e senza ma, a cui viene anche annullato il gol del 2-0 perché sì, in effetti, il pallone era nelle mani del portiere là, che partitaccia, veramente una partitaccia, a parte che veramente loro hanno perso tempo per tutta la partita, per un'ora e passa, fino a rigore hanno perso tempo, poi, magicamente, abbiamo fatto con lui, corsa, come correvano dappertutto, incredibile, anche con un uomo in meno, ma strano, veramente strano, che quando prendi un gol, ma stranissimo, ma comunque, tralasciando questo, veramente una partita di merda, di merda, soprattutto perché, prima di tutto, un campo di merda, campo veramente schifoso, ingiocabile, dove la palla veramente non si stoppava, in più, oltre noi aver giocato di merda, ma non è una novità, appunto, sta storia che loro continuano a perdere tempo, l'arbitro gialli, così, che volavano, e l'espulsione di Stepinski, che è, anche quella, cioè, non puoi dire nulla, o non mi venire a dire, è perché forse è il primo tempo, ma che cazzo c'entra, c'è anche quelli di Sky hanno detto, è perché forse sfiora la palla, è perché non cercava il pallone, poi all'inizio tempo poteva essere, ma che cazzo c'entra, il parlamento, il parlamento, scusate, il regolamento parla chiaro, il regolamento parla chiaro, fanno, gamba tesa in alto, e soprattutto a prendere qua, qua il giocatore, che l'ha preso qua, sull'orecchio, sinistro, qui, rosso, diretto, il mutuo, e vai anche fuori, è stato là pure a protestare, non voleva, ha protestato pure quando ha dato il giallo, ma ci ne andiamo conto, perché? Eh, perché è venuto all'inizio del primo tempo, ma anche se avviene all'inizio, a metà, o a fine partita, rosso, diretto, via, fuori, due giornate, minimo, a pensare, in tribuna, ed è già tanto che aveva i tacchetti in goma, gli lasciava una strisa qua, ma poi noi giocavamo in dieci, sì, chi cazzo giocava dopo dietro in difesa, senza musacchio rotto, comunque veramente, stai lasciando tutti i casini vari tra arbitro, rigore, non rigore, Verona, non Verona, oggi veramente una partita di merda, a parte il primo tempo che, il primo tempo che comunque qualcosa si vedeva, ma insomma, le solite minchiate, Susu che fa le solite robe, ma non è buono, ditemi quello che volete, ma io Susu non lo posso vedere, e spero anche voi, perché se no, non so cosa vogliate vedere al Milan, io al Milan non voglio vedere gente come Susu, insomma, voglio vedere gente come Paquetà, che vale da solo il prezzo del biglietto, perché anche oggi ha fatto alcune robe grandi, è stato pure ammonito così, per caso, un fallo, ammonito, Paquetà, anche Piontek, così, un spintone giallo, comunque, e ovviamente cosa fa, visto che è ammonito, visto che secondo lui sta giocando male, lo tiriamo fuori, giusto, lo tiriamo fuori, e facciamo tra l'altro l'unico cambio, l'unico cambio che ha fatto sbagliato, ma non perché ha fatto entrare Rebic, che non ha fatto neanche malissimo, poveraccio, ha sbagliato un gol, ma l'unico cambio, l'unico che non doveva tirare fuori, l'ha tirato fuori, e un cambio, ha fatto uno, mi ricordo a Gattuso che faceva un cambio, tra l'altro Paquetà lo faceva pure sbagliato, ma cazzo, ma vedrai che a fine partita non ne avevamo più, abbiamo fatto il secondo che ci hanno poi annullato, ma cambia, ha fatto il nuovo Piontek, al 75esimo, metti dentro Leao, al posto di Piontek, che tra l'altro è già ammonito, che magari non li parta via l'embolo, metti dentro Leao, che gli fai giocare 2-3 minuti a quel povero Cristo, e tiri fuori uno, tra che si, c'è l'anoglu, che oggi non so chi sia stato il peggio in campo, anche Biglia non ha scherzato, perché anche lui, ok recuperare palloni, ma Farfalli è proprio un mago, cioè veramente, farlo di qua, farlo di là, anche lui oggi è un miracolo che non abbiano ammonito, oggi in questo video, questo video è lungo, sarà lungo, lo so già, sarà lungo, perché ci sono tante robe da dire, cioè, ci sono tante tante robe da dire, che il tempo passa, cioè se fosse già, l'avessimo giocato bene, basta, 3-0 al primo tempo, era fatta, a parte che con questi qua, che veramente, come vi ho già detto, si meritano solo di andare in serie B, se non di fallire, andare in serie D, e imparare cos'è il rispetto, cos'è il gioco del calcio, che pensano soltanto a distruggere il gioco degli avversari, a guadagnare un punticino, a giocare, cioè neanche divertendosi a giocare, a perdere tempo, giocare, tu giochi a calcio, per il tuo divertimento, il tuo lavoro, tra l'altro, per perdere tempo, per guadagnare un punto, pensa qual è la mentalità di queste squadre, che poi tra l'altro ritrocedono, che fanno di queste annate inutili, ma comunque senza sbiare per il Verona, che per me non mi interessa, non mi interessa, può andare anche in serie B, può anche fallire domani, sarei anche contento, voglio sottolineare una roba, che veramente, mezza squadra, ma come vi ho già detto in centinaia altri di video, ma io vi ripeto sempre le stesse cose, ve l'ho già detto anche nella scorsa stagione, vi ripeto sempre ogni video, sempre le stesse identiche cose, perché? Perché la squadra fa cagare, la mezza squadra va cambiata, settimana prossima c'è il derby, c'è il derby settimana prossima, cioè giochiamo così, giochiamo così contro una squadra che, contro tre, una o due abbiamo perso con l'Udinese, col Brescia, che è in casa, e mi è giocato pure di merda, e oggi col Verona che abbiamo sofferto non so quanto, con un espulso anche Calabria, meglio così, sono contento che l'abbiano espulso, così non gioca il derby, bene, perché anche lui oggi ha fatto, ha dato del suo veramente per i premi del peggior giocatore in campo, come sempre tra l'altro. Quindi, che cosa vi devo dire? Mezza squadra va rifatta, cioè va rifatta, a parte il centrocampo oggi che, non so che cosa abbiamo preso di far giocare Biglia, quelli che abbiamo comprato non li facciamo giocare, quelli buoni che abbiamo, ovviamente li teniamo in panchina, come al solito, come nello scorso video, come nello scorso video ancora, come nella stagione scorsa, e sarà sempre così, finché uno non ha la mentalità, allora io capirò, io in allenamento non li vedo, ma non è possibile, che io da un semplice tifoso, da un semplice appassionato del calcio, vedo, se io vedo le stesse identiche cose, che vedono centinaia di altre persone, che uno deve giocare là, e oggi si è visto che Pacchettà deve giocare là, perché oggi secondo tempo, non c'era Pacchettà, e si è visto che nessuno faceva girare il gioco là in mezzo, si è visto che a centrocampo facciamo cagare, che Suso è una merda, i due terzini, non sono due terzini, perché uno è un gobbo, con la gobba così, tutto, tutto, non so che, tutto in, chiuso a se stesso, così timido, che fa il passaggio, e fa il passaggio lì indietro, e poi è tutto storto così, che cammina, tutto così, l'altro che corre, fa così, non fa un cross giusto, non sa difendere, non sa attaccare, e poi ne ha preso pure un rosso, quindi, grande prova di Calabria, mezza squadra, va rifatta, cioè, se non prendi ancora, è merito di quei due centrali che abbiamo, di Romagnoli, che è mostruoso, e Musacchio anche lui, che da sempre il suo, aspetta che mi metto, mi aspetto un attimo a respirare, so che sto video sta durando un botto, ma questo è, settimana prossima c'è il derby, dico solo questo, che se non ne prendiamo tre, è già un miracolo, se giochiamo così, perché finché facciamo giocare, sempre gli stessi, i risultati sanno sempre gli stessi, eh, cazzo, è matematica, è fisica, è proprio intelligenza, se tu giochi sempre con gli stessi, sempre gli stessi risultati ottieni, che cazzo, cambia, cambia mio boy, ma fa a me una mia roba mentale, cioè io non sto dicendo solo a Gian Paolo, perché per carità, sono passate tre partite, ma vedrai che dopo tre partite, dopo due partite, se quella non è la tua mentalità di calcio, devi cambiare, hai crunici, che l'hai allenato pure tu all'Empoli, cazzo, fai a giocare, oggi, un quarto d'ora, potevi farlo tranquillamente e giocare, fai un, dato che abbiamo fatto, hai fatto un cambio solo, non capisco il perché, già abbiamo mezza squadra rotta, quell'altro che non si sa se deve tornare, quell'altro non si sa, in più quelli forti che abbiamo, non li facciamo neanche giocare, ma io non capisco, boh, basta, non vuole più di l'altro, ci vediamo settimana prossima a Derby, speriamo bene,